botticino botticino villa di testa in residence qui siamo sotto dove c'è un cortile privato pluriuso che ha accesso alla taverna adesso saliamo al piano giardino posizione spettacolare strada chiusa quindi super tranquilla guarda che giardino giardino enorme la maddalena dietro è freschissimo un bel portico per mangiare fuori bello veramente una bella villa di testa in residence due piani piano terra giorno primo piano la zona notte e sotto grande taverna cantina garage dopo andiamo a vedere proseguito che ho prossimo filmato ciao